Buongiorno a tutti, sono Matteo Paganini, benvenuti a questo appuntamento con l'analisi live del mercato dedicata all'apertura europea. Ieri è stata una giornata di pausa, non chiaramente per i mercati, quanto per noi, andiamo a vedere subito quello che è successo, perché c'è stata una rottura a ribasso del petrolio, che avrete penso visto, il mercato dopo aver tentato delle buone discese a partire già dall'area di 39,5 e raggiungendo tutti i target che abbiamo visto ha tentato delle ulteriori accelerazioni intorno a metà giornata di ieri prima di partire con delle prese di profitto, ma siamo arrivati in area 36,60, se andiamo a prendere dei grafici più lunghi, prendiamo un grafico settimanale per esempio, stringendolo notiamo come abbiamo raggiunto tutti i punti precedenti e ora il mercato si potrebbe avvicinare con pericolosità agli ultimi punti di minimo che passano qui in area 36,15. Una volta superati questi livelli, attenzione che il mercato potrebbe estendere ulteriormente verso il basso, non lo andiamo ad escludere, così come non abbiamo escluso delle ripartenze ribassiste che abbiamo visto su tutti i time frame, ma anche su time frame giornalieri, che avrebbero potuto portare come detto e come visto a raggiungimento di tutti i punti che avevamo stanziato, 38,90 al primo, 38,5 al secondo e tutta l'area che passava qui tra 37 e 3 quarti e 38, ci siamo arrivati, l'abbiamo superata, per il momento sono intervenuti i punti statici precedenti che abbiamo tracciato su un grafico settimanale, stiamo attenti perché potrebbe andare in divergenza al mercato qui, sono già arrivate delle richieste ieri circa questa divergenza da curare, assolutamente questo è un pattern che potrebbe portare a dei buoni rimbalzi, ma attenzione a non anticipare l'operatività, perché siamo proprio con un mercato che potrebbe sì andare a fare incrociare questa linea verde con la linea rossa, quindi la linea della K con la linea della D, se questo dovesse accadere la divergenza sarebbe confermata, quando il mercato comunque va in divergenza sul petrolio, anche se non sono divergenze pulitissime, andiamo sempre a correggere un po', dopodiché sappiamo come trattarle, qui per esempio sull'ultima siamo andati a ripartire, sono intervenute le confluenze grafiche di punti statici e di media mobile che sono di livello 1 e di livello 3, quindi più forti del livello 4 che dà il segnale di divergenza e da qui siamo ripartiti verso il basso, quindi in ottica multi day è qualcosa sicuramente da seguire, mi raccomando non andiamo ad anticipare nulla, se stiamo all'interno di time frame più piccoli vedremo tra poco come possiamo andare a lavorare, mi interessava mostrarvi anche la correlazione con il dollaro Canada, l'abbiamo visto anche questo settimana scorsa, con la possibilità una volta superata l'aria 34 e tre quarti di estendere verso 35 e 25 in primis che come abbiamo scritto anche sul daily effects avrebbe potuto intervenire come prima zona di frenata di questa rottura, così è stato, se voi andate a dettagliare bene la rottura, il 34 e tre quarti che disegniamo qui, andiamo ad estendere l'inizio di questa linea in modo tale da mostrare stringendo il mercato come siamo andati tendenzialmente a passare molto bene i 34 e mezzo che erano i punti statici precedenti, 34 e tre quarti è un quarto di figura dopo i massimi precedenti, siamo arrivati intorno a questa zona, superata, pullback, ripartenza e su 35 e 25 il mercato si è fermato, quindi molto buoni i livelli tecnici visti e le classi di volatilità stimate sul dollaro Canada, dopo aver congestionato per tutta la notte con la partenza della giornata di ieri abbiamo avuto delle rotture rialziste che hanno portato il mercato ad estendere fino a 35 e tre quarti che erano i nostri target, una volta arrivati qui siamo andati anche oltre 36 e sotto 36 e 25 torna ancora quel quarto di figura dopo le figure tonde come il 35 e 25 che abbiamo visto qua, ci siamo fermati e per il momento stiamo andando a prendere profitto, quindi molto buona la correlazione che abbiamo studiato, molto buone le rotture tecniche e vediamo adesso come si può lavorare su questi due strumenti, visto che stiamo andando in presa di profitto e potremmo andare a cercare i supporti su dollaro Canada e le resistenze sul petrolio. A parte questo abbiamo visto le borse che rimangono ancora abbastanza combattute, lo standard and poor dopo la ripartenza che ha riportato verso i massimi precedenti, ha mollato ancora terreno e attualmente si trova un po' in congestione, più bello il DAX che dopo i tentativi di rottura che abbiamo anche lavorato, che non hanno superato l'area di 11 mila per estendere fino a 11 mila e 65, 11 mila e 70, è andato a stornare verso il basso, chi avesse come noi lavorato su questa rottura comunque è stato un trade a rischio zero perché quando il mercato ha accelerato a prescindere dal fatto che si sia chiusa o parte o meno della posizione, gli stop sono stati portati in pari, dopodiché il mercato ha mollato e è tornato nuovamente su punti di minimo con il nostro Fuzzi che è andato a performare peggio rispetto al DAX, così come il DAX qui ha tentato delle ripartenze che non sono arrivate a superare i punti di minimo precedenti, il Fuzzi ha fatto lo stesso, ha tentato queste ripartenze che si sono mantenute lontane dai punti precedenti, dopodiché il DAX è andato a scendere, per il momento ci troviamo nei pressi dei punti statici precedenti, mentre sul nostro Fuzzi il mercato ha accelerato ulteriormente, questo è sinonimo di poca liquidità, stiamo attenti perché da qui alla fine dell'anno la liquidità potrebbe iniziare a diventare un po' rarefatta anche sul mercato valutario, adesso è una settimana particolare questa qui, stiamo studiando i diversi flussi di capitale, da settimana prossima non escludiamo che la liquidità vada ad assottigliarsi, se così sarà scriveremo un pezzo sul DAX andando a spiegare tutte le implicazioni del caso e potenzialmente potrebbe non essere uno scenario lontano dalla realtà quello che vi sto paventando adesso. Chiudiamo questo quadro generale con il dollaro, poi andiamo a vedere i singoli livelli perché su un dollar index abbiamo dopo questo tentativo di ripartenza delle piccole vendite di dollaro che comunque non stanno mostrando una direzionalità precisa del dollaro americano, abbiamo visto infatti queste forti vendite di dollaro che sono avvenute soprattutto grazie ad acquisti di euro che sono stati seguiti da acquisti di sterlina dopo le parole di Draghi, un dollaro che è andato a recuperare terreno piano piano e che ora sta tentando nuovamente delle discese ma come vedete se lo andiamo a trattare su time frame più lunghi ci troviamo un po' a metà del guado, tra i massimi precedenti e i minimi che ci sono stati su questa ripartenza siamo proprio a metà e dal punto di vista tecnico non abbiamo grandissime evidenze se non il fatto che qui siamo andati a pulbeccare la parte bassa di supporto che stava tenendo il mercato, un mercato che ha mostrato dei restringimenti di volatilità e che adesso studieremo dal punto di vista tecnico. A parte questo non ci sono grandissime novità se non anche qui l'avevamo accennato settimana scorsa non so se voi ci lavorate però può essere interessante seguire le dinamiche anche del colosso cinese soprattutto legato all'andamento del dollaro yuan, avevamo visto infatti finalmente una rottura di tutta la congestione che si era andata a formare su grafici giornalieri, una rottura che ha portato ad estensioni anche sulle pubblicazioni che abbiamo visto arrivare sia ieri che questa notte, non so se avete avuto modo di vederle, magari prendiamo un calendario macroeconomico e lo andiamo a vedere insieme, ci sono stati dati sia sulle esportazioni sia sul CPI e prezzi alla produzione, quindi dati sull'inflazione, ieri sono stati rilasciati dati sull'export e sull'import che sono stati peggiori rispetto alle attese, esportazioni su base annuale, importazioni su base annuale, meno 6 e 8 e meno 8 e 7, rispetto alle aspettative siamo stati meglio sull'import e peggio sull'export, ma non sono dati che sicuramente lasciano tranquilli per la Cina, vedremo il prossimo PIL che sarà importante, il PIL dell'area Euro l'avrete visto a 1,6, niente novità, quindi come d'attese e come precedente e poi ci sono stati dati sull'inflazione questa notte, indice dei prezzi al consumo a 1,5 con indice dei prezzi alla produzione esattamente pari ai precedenti, per cui una Cina che conferma questo suo slowdown e vedremo proprio il prossimo PIL perché c'è stata questa comunicazione di voler crescere a un tasso minimo del 6,5%, vediamo qua perché inizia, continua questa svalutazione dello Yuan che è dovuta anche al mercato, non soltanto al fixing dei cambi centrali da parte della Banca, della People Bank of China, ricordiamo e con questo davvero vado a chiudere la panoramica generale che è cambiato il meccanismo di quotazione dello Yuan, prima la banca centrale andava a fissare un prezzo centrale per la giornata che si andava a vivere, da questo prezzo ci si poteva scostare del più o meno 2% e questo era quanto, se il mercato si avvicinava alla fascia superiore o alla fascia inferiore di questa banda di oscillazione permessa la banca interveniva con interventi di mercato aperto per far sì che il valore del dollaro Yuan rimanesse all'interno di questa zona, adesso il fixing è un meccanismo diciamo misto perché il mercato dovrebbe andare a deciderlo o meglio si dovrebbe prendere la chiusura giornaliera come valore centrale rispetto al quale ci si può scostare del più o meno 2% ma la banca centrale può deciderlo ancora, questi sono stati i movimenti di mercato di vendita di Yuan seguiremo dal punto di vista giornaliero la possibile formazione di una divergenza ribassista come dicevamo settimana scorsa perché se dovesse formarsi con prezzi che hanno già raggiunto i primi punti di massimo e che potrebbero portarsi su livelli ulteriormente più alti, bene con prezzi all'interno di questa zona e divergenza formata possono esserci delle possibilità operative anche sullo Yuan sempre per chi di voi lo stia seguendo o lo segua. Andiamo a vedere i diversi cambi, partiamo dall'euro, un euro che su un time frame giornaliero ha avuto questo forte rimbalzo che ha riportato verso 1,10, l'abbiamo lavorato bene sulla ripartenza quando c'è stata la conferenza stampa di Draghi e adesso stiamo congestionando per cui non dà nessun segnale particolare su time frame giornalieri, così come su un 4 ore abbiamo avuto la ripartenza e il superamento a rialzo di tutta la linea di trend che abbiamo studiato, avevamo ragionato su tutte le perdite di momentum con inclinazione che è andata a cambiare, è stata meno ripida rispetto a quella che ha contenuto il mercato per tutto il mese da metà ottobre fino a metà novembre, fino a fine novembre con il mercato che poi è andato a ripartire bene e attualmente sta iniziando a mostrare un rispetto di punti precedenti, qui abbiamo questa zona di attenzione, anzi la disegniamo in questo modo per essere più precisi, che è andata ad intervenire insieme alla media mobile per queste ripartenze e ora ci troviamo di fronte a un mercato che sta mostrando questi tentativi di raggiungimento di punti precedenti che si vanno a distribuire tra 0,940 e 0,975. Ok, scusate ho sbagliato io questa volta qua, qua sull'euro, eccoci qua. Va bene, direi che possiamo continuare da qui, sì, mi sono dimenticato io di andare a cambiare la schermata, chiedo perdono ragazzi. Dicevo sull'euro qua, su un time frame giornaliero che avevamo visto, è brutto, non ci sono grossi segnali, su un time frame a quattro ore avete sentito quello che abbiamo commentato, mercato che ha superato la linea di trend, ha perso l'inclinazione, queste qua erano le ultime inclinazioni che avevamo visto e che stavano contenendo un po' il mercato, perdita ulteriore di momento, un mercato che ha girato verso l'alto, rotture rialziste, mercato che ha trovato punti statici precedenti, questa è l'area di interesse in corrispondenza della media mobile e adesso potrebbe puntare queste resistenze. Ok, da qui possiamo andare avanti, se prendiamo un grafico orario, dopo la formazione di questa figura che abbiamo visto settimana scorsa, siamo andati a rompere a rialzo, la altezza di questa congestione proiettata sui punti di rottura forniva dei punti di target potenziali qua intorno a 0,940 che sono quasi stati raggiunti. Stiamo attenti perché in caso di superamento dell'area di 0,955 il mercato potrebbe tentare delle prime accelerazioni verso 0,975, dopodiché possono esserci anche dei tentativi ulteriori di accelerazione, dobbiamo tornare su un grafico a 4 ore per capire dove possiamo arrivare, perché oltre 0,975 si aprono strade verso 1,10 e 1,10 e un quarto, questi primi punti cui prestare attenzione, dopodiché abbiamo quest'area qui, il quarto di figura, un po' come abbiamo visto il dollaro cana da prima, con questi due potenziali livelli di estensione. Attenzione che non escludiamo da un momento all'altro dei riacquisti di dollaro americano, continuiamo a credere che di fronte a queste attese per un interventismo da parte della Federal Reserve il prossimo mercoledì e se volete all'interno di questa stanza della Trading Room noi seguiremo completamente l'evento, quindi ci collegheremo prima delle 8, intorno ai 19.45 per preparare appunto questo evento e vedremo un po' che cosa succede, rimarremo collegati anche sulla conferenza stampa. L'idea di andare a prendere profitto su queste salite di dollaro era un'idea buona, adesso il dollaro potrebbe essere buttato giù ulteriormente prima di essere riacquistato in virtù di questo rialzo di tassi. Questo è uno scenario di analisi, dal punto di vista operativo lo sapete che faremo il click solo ed esclusivamente in base a situazioni tecniche, per la giornata di oggi questo dovrebbe portare a prudenza nel momento in cui dovessimo assistere a dei tentativi di estensione oltre 0,9 tre quarti, perché da un momento all'altro potrebbero intervenire acquirenti di dollaro per cui mantenere una parte di posizione per estensioni verso 10 e un quarto può essere sicuramente una buona idea, mi raccomando la prudenza. Step di 25 punti in 25 punti per andare ad impostare dei trailing stop potrebbero non essere malvagie come idee e stare un po' più conservativi sui trailing stop andando a limare queste strade e a pensare ai 15 punti potrebbe essere un qualcosa di intelligente. Prima di pensare a ripartenze verso il basso l'idea è quella di aspettare perlomeno un ritorno nella zona di 0,8 e 50 con 0,8 e 30 che è un livello che secondo noi va a tornare come importanza e sotto questo potremmo assistere a ripartenze da prima verso 0,7 e 90, dopodiché il mercato potrebbe essere pronto ad ulteriori step, il primo è 0,7 e 60. Quindi un'operatività ancora in rottura sull'euro dollaro senza andare a studiare dei possibili ingressi in limit per il momento. Stiamo attenti e seguiamolo in questo modo. Cable, andiamo a vedere, è già avvenuto questa mattina la rottura a rialzo della congestione che si è andata a formare durante la notte, era già avvenuta prima del collegamento al webinar per cui non abbiamo visto operativamente subito questa possibilità. Diventa interessante seguire su un grafico orario un'eventuale formazione di divergenza ribassista, perché abbiamo prezzi che hanno formato dei massimi qua sopra in corrispondenza dei massimi sullo stocastico, prezzi che ora stanno allungando verso l'alto, come detto è scappato per chi non l'avesse visto proprio nelle prime ore di questa mattina, sui quali movimenti stiamo aspettando e studiando in eventuale formazione di divergenza ribassista. Un grafico a 4 ore, partiamo da un giornaliero per chi oggi è una giornata aperta, possono entrare tutti all'interno della trading room, quindi è possibile che tanti di voi non abbiano seguito le nostre analisi nel corso delle scorse settimane, un cable su un time frame giornaliero che cosa ci ha mostrato? Ci ha mostrato una perdita di momentum, vedete l'inclinazione sui minimi meno ripida rispetto a quella che c'era sui massimi, tentativo di accelerazione verso il basso con rientro forte su draghi, questi acquisti di sterlina che sono avvenuti insieme agli acquisti di Euro, mercato che ha trovato i primi punti statici di riferimento in corrispondenza della media mobile e che ora sta scendendo ancora, noi qui non abbiamo considerato queste come aree di vendita proprio per il fatto che, su time frame giornalieri, poi su time frame più piccoli è un altro discorso, per il fatto che all'interno di tutta questa congestione i prezzi hanno sempre interagito con le medie, non ci sono stati aumenti di volatilità così importanti da farci considerare le medie come punti di resistenza a parte il primo. Qui invece è intervenuto e il mercato adesso si trova un po' come l'Euro all'interno di una congestione dal punto di vista giornaliero, se andiamo a vedere un grafico a 4 ore invece, eccolo qua, dopo questo tentativo di discesa ora il mercato sta andando a ripartire verso l'alto e se andiamo a vedere i punti di swing dove il mercato è andato a girare sui minimi e sui massimi c'è stata sempre una buona sincronia con lo stocastico, questa però non è una condizione sufficiente per farci considerare un'operatività in base all'andamento dell'oscillatore, questo perché abbiamo sì una sincronia tra prezzi e oscillatore ma non abbiamo dei prezzi che si stanno mantenendo in maniera pulita all'interno di due livelli statici o due livelli dinamici, quindi manca la coesistenza di queste due condizioni. Ripartenza, dal punto di vista di livelli a 4 ore vedete che c'è ancora spazio nel momento in cui il mercato dovesse andare a portarsi sopra l'area di 50 e 60, questo è il primo punto dove avviene lo scambio di ruoli tra punti di supporto che poi sono diventati di resistenza e se andiamo a prendere un grafico orario che è quello che secondo noi dovrebbe andare a comandare l'operatività di oggi abbiamo una sorta di conferma di come tutta questa zona possa essere una zona di attenzione particolare, qui su queste forti vendite che sono avvenute ieri sulla sterlina, abbiamo avuto ancora un mercato che ha tentato delle ripartenze verso il basso e che si è mantenuto sopra punti precedenti, da qui siamo andati a ripartire senza avere delle divergenze orarie, ma se avete visto dei time frame più piccoli ci sono state delle ottime divergenze a 15 minuti che hanno mostrato questa bellissima ripartenza, attualmente studiamo tutta questa zona, tra 50 e 40 e 50 e 60, se dovessimo rimanere lì con una divergenza che va a formarsi il mercato potrebbe dare delle buone soddisfazioni a ribasso, attenzione che dal punto di vista temporale c'è più probabilità che il mercato vada a in qualche modo tentare delle evoluzioni per più ore prima che si vada a formare queste eventuali divergenze e qui dobbiamo stare attenti a cercare di capire quello che succede perché fino a quando rimaniamo sotto l'area di 50 e 60 va bene in attesa della divergenza, anzi se siamo tra 50 e 45 e 50 e 60 con la divergenza che si va a formare sarebbe perfetto proprio perché si possono pensare degli acquisti di dollaro con stop subito sopra. Se il mercato prova a essere comprato e tenta delle rotture a rialzo, io credo che l'area di 50 e 65 possa essere un buon livello di trigger oltre al quale pensare a potenziali accelerazioni della sterlina che non vedo come riprese strutturali ma vedo come possibilità di trading, quindi classi di volatilità nell'ordine dei 20 punti, sopra 65 e 85 il primo livello sul quale prendere parzialmente profitto e mettersi in pari con lo stop per poi mantenere un'eventuale parte di posizione ma per una strada che non vediamo per il momento oltre l'area di 51, se si vuole provare a tenere tanto un 51 e 10 potrebbe essere un qualcosa di intelligente da poter provare, però tra 50 e 95 e 51 potrebbe tra virgolette finire la festa, quindi seguiamolo in questo modo in caso di rotture rialziste per chi volesse essere più propenso al rischio e provare a lavorarle, altrimenti l'idea è quella di lasciarlo sfogare e di aspettare un'eventuale formazione di divergenza. Come in tutti i casi di breakout che stiamo studiando adesso, l'idea è quella che se il mercato va a effettuare queste false rotture, subito stop sotto i punti di ingresso perché appunto c'è questo spauracchio, questo pericolo che il dollaro possa essere ricomprato da un momento all'altro e soprattutto come detto adesso studiamo le condizioni di liquidità perché iniziamo ad avere dei sentori che potrebbe andare a ridursi a partire dal prossimo lunedì, vediamo se anche questa settimana potrebbero esserci situazioni di questo tipo, per il momento no, siamo fuori pericolo. Dollar o yen, grafico giornaliero che conferma tutto il forte congestionare che abbiamo visto, siamo ancora all'interno di questo quadratone che stiamo seguendo e che stiamo studiando, non ci dilunghiamo sui concetti che abbiamo già visto nel corso della settimana scorsa e dalle settimane passate, circa le correlazioni che vanno e che vengono con le borse o che vanno e che vengono con il dollaro americano in generale, stiamo ad attendere delle eventuali rotture a rialzo di 124 o a ribasso di 122 per aspettare dei movimenti più volatili sul dollaro yen, qualora dovessero avvenire queste rotture è possibile che avvengano in correlazione con le borse, quindi stiamo attenti perché di fronte a una salita di dollaro yen potremmo avere borse che riprendono, così come di fronte a una discesa di dollaro yen borse che vanno a stornare e tecnicamente questo è quanto dal punto di vista giornaliero. Se andiamo su time frame più piccoli, scaliamo su un quattro ore e poi su un orario, il grafico a quattro ore ha dato un'ulteriore conferma, non sto qui a risegnare, a rimarcare tutti i punti di swing, ma dopo la ripartenza che abbiamo avuto sui minimi con stocastico in sincronia di movimento anche se è stato un pochettino più in ritardo rispetto alla partenza del mercato, abbiamo avuto un ulteriore giro a ribasso dei prezzi in area 123,50, peccato non essere arrivati tra 123,60 e 123,70 perché sarebbe stato ancora più bello dal punto di vista di rapporti tra rischio e rendimento, ma il mercato adesso sta iniziando a scendere e vediamo se continua questo movimento laterale che può essere anche lavorato. Su grafici più piccoli, time frame orari, il mercato attualmente ha provato delle prime accelerazioni verso il basso, ripartenza contenuta dalla media con i punti statici precedenti che non sono stati rispettati benissimo, ci siamo fermati a metà tra questi minimi e tra questi massimi, ripartenza nuovamente verso il basso con prezzi che attualmente si trovano in consolidamento intorno all'area di 122,75, stiamo a seguire perché in caso di ripartenza del mercato potremo assistere a dei tentativi di accelerazione verso il basso che comunque non considereremo il limite, diventa difficile andare a vendere sulle ripartenze se non abbiamo dei rispetti buoni dei punti precedenti, quindi qua sarebbe un azzardo, allora lo lasciamo sfogare fino a dove vuole andare e in caso di superamento a ribasso dei punti di minimo con dei trigger che possono passare intorno a 55, possiamo attenderci delle potenziali ripartenze verso 122,25, un'operatività un po' tirata sul dollaro yen, questo è da sapere. australiano, molto bello tecnicamente parlando, un grafico giornaliero che abbiamo studiato bene settimana scorsa è andato in divergenza, punti di massimo rispettati molto bene, mercato che dopo la divergenza rialzista che abbiamo studiato è arrivato a indicare la fine di divergenza con l'ingresso dell'oscillatore all'interno della zona di ipercomprato e qui come vedete c'è stata un'ottima corrispondenza con i massimi che infine il mercato è andato a fare, tentativo di ripartenza ribasso contenuto dalla linea di trend che stava appunto contenendo e dando l'inclinazione al mercato, ripartenza su nuovi massimi, formazione di divergenza il mercato che adesso sta iniziando a scendere e potrebbe continuare a farlo nel momento in cui dovessimo scendere sotto l'area di 71,75 con dei trigger point che possono essere visti più in basso intorno a 71,55, questo dal punto di vista giornaliero per dei potenziali tentativi di accelerazione verso 70,75, dopodiché abbiamo la possibilità di vedere anche un 70,75, questo se dovessimo assistere a delle rotture verso il basso con la divergenza che continua a essere valida, per essere valida dobbiamo essere lontani dalla zona di ipervenduto, ossia dalla zona opposta rispetto a dove sia formata la divergenza con uno stocastico impostato verso il basso e che non va a incrociare verso l'alto, dal punto di vista di un grafico a quattro ore, tra l'altro scusatemi se torno su un grafico giornaliero, no vabbè non ha senso, siamo già andati via da un'area di resistenza che abbiamo commentato, va bene così, un grafico a quattro ore dicevo mostra come siamo usciti per il momento da questo canale rialzista all'interno del quale ci siamo andati a muovere, le divergenze anche qui che abbiamo visto progressive hanno sfogato e hanno mostrato il proprio termine proprio sui minimi di prezzo, quindi ottime corrispondenze sia di classe di volatilità sia di pattern e di sincronia tra prezzi ed oscillatore, ripartenza con il mercato che potrebbe cercare delle resistenze che sono di difficile individuazione dal punto di vista di precisione ma che se andiamo a ricercare a livello di aree sono abbastanza chiare, infatti qui se andiamo a vedere tutti i punti di swing abbiamo tutta questa zona che potrebbe intervenire, partendo da qui poi abbiamo questi massimi, questi punti intermedi, qui abbiamo avuto delle buone conferme, qui ne abbiamo avute delle altre, quindi tra 72,5 e 72 e 3 quarti c'è la possibilità che il mercato vada a fermarsi, ma come sul dollaro yen non andremo a valutare delle vendite in limit all'interno di questa zona, ci interessa di più vedere se il mercato si va a fermare e poi tentare di ragionare su delle rotture a ribasso che in linea indicativa potrebbero essere studiate intorno a 72,5, livello al di sotto del quale il mercato potrebbe accelerare verso 71,80 e poi verso questo 71,50, se così fosse attenzione perché dopo qui si vanno a sposare i due scenari o meglio di time frame, quello a 4 ore e quello giornaliero, quindi se arriviamo su 71,5 ci spostiamo su un grafico daily per vedere se la divergenza è ancora valida. E questo discorso di eventuale ripartenza lo possiamo trovare anche su un grafico orario, anche se qui come vedete abbiamo avuto un tentativo di sviluppo di quella che chiamiamo peracotta noi, una figura tecnica che mostra dei minimi di prezzo, ritest della media mobile a 21, minimi superiori e potenziali accelerazioni verso la media 100 che però qui devono essere visti nel momento in cui come sempre andiamo a superare i punti statici precedenti, non basta la media mobile per valutare degli acquisti, serve l'integrazione con i punti precedenti e dal punto di vista operativo, di operatività non c'è un granché da fare qui perché in caso di rottura di 72,45 per puntare 72,65 a meno di mantenere stop subito sotto non è un buon risk reward. Grafico orario che dicevo si va a sposare un po' con il 4 ore perché su 4 ore siamo attendisti, su grafico orario se il mercato non va a trovare queste zone e dovesse ripartire subito verso il basso ci dà la possibilità di valutare invece che ripartenze sotto 72,20 nel momento in cui i prezzi dovessero passare per le resistenze e rompere nuovamente verso il basso, aggiorneremo il livello intorno all'area di 72,10, sotto 72,10 c'è la possibilità di andare ad implementare e anticipare delle rotture per accelerazioni verso i minimi di 71,80 dopodiché si vanno a risposare tutti i diversi time frame che abbiamo visto. Per ripartenze interessanti del dollaro australiano crediamo che bisogna superare a rialzo l'area di 72,90 quindi prima di 72,90 non valuteremo delle ripartenze interessanti da parte del dollaro australiano. E così chiudiamo il quadro del valutario sui quattro componenti del dollaro index, andiamo a vedere però anche il dollaro canada perché dopo la rottura che c'è stata aspettiamo un'eventuale formazione di divergenza ribassista giornaliera, ma qui c'è tempo, se si va a formare comunque potrebbe fornire delle ottime indicazioni operative, dobbiamo scendere su time frame più piccoli per capire come è stata la price action e soprattutto come andare a muoverci. Ah, un'ultima cosa su un dollaro australiano che non vi ho detto su un grafico a quattro ore, chiedo perdono, se il mercato dovesse rompere a ribasso, attenzione perché anche qui non escludiamo potenziali formazioni di divergenze, per cui tenetelo sempre l'oscillatore, anche se non operate sulle divergenze, anche se non operate sulle divergenze, mi sentite perché un trader mi ha scritto che non si sente, a me risulta tutto a posto, sì, ok, va bene, dicevo anche se non operate attivamente sulle divergenze, tenerle come filtro per capire quando può affermarsi un movimento, male non fa, ok, dollaro canada, dicevo, abbiamo visto sul grafico giornaliero, abbiamo già commentato la price action di rottura con il rispetto quasi chirurgico dei livelli che abbiamo ipotizzato, non tanto perché siamo bravi noi ma perché è il mercato che molto spesso si comporta in questo modo, con il posizionamento di quelle che noi chiamiamo nuvole di ordini, attualmente su un time frame a 4 ore sarete stupidi di sentirmi nominare le divergenze oggi, però questo è quanto perché se andiamo a ripartire qui c'è da curare una potenziale divergenza ribassista, attenzione che questa ripartenza verso il basso attualmente è ascrivibile solo ed esclusivamente a prese di profitto, abbiamo avuto delle indicazioni molto buone anche dallo speculative sentiment index che era sbilanciato oltre 4 durante la giornata di lunedì, ho mandato fuori anche un aggiornamento pubblico dell'SSI lunedì andando a ritardare a livello di tempistiche rispetto al giovedì canonico, sul sito del DailyFX, non so se voi lo andate ad utilizzare sul vostro trading, però c'è la possibilità di trovare al giovedì tendenzialmente sotto la sezione di analisi tecnica e sotto SSI, speculative sentiment index, un aggiornamento pubblico anche per voi che non siete trader di FXCM, chi ha un conto reale con FXCM chiaramente ha la possibilità di vedere l'SSI due volte al giorno all'interno del sito oppure in tempo reale caricato in piattaforma, per chi non avesse un conto di questo tipo diamo comunque l'informazione una volta alla settimana che può essere comunque un qualcosa di valido se lavorate sul lungo periodo e se analizzate dei cambi che sono su livelli importanti proprio dal punto di vista del lungo periodo. Dollaro Canada abbiamo avuto un aggiornamento proprio mandato fuori lunedì perché volevo mostrarvi come eravamo a meno 4,31, meno 4,31 se voi andate a farvi il calcolo significa che il campione totale, meno 4,31 cosa vuol dire? Che ci sono 4 trader, virgola 31 corti ogni trader che è lungo quindi il campione totale è di 4,31 più 1 quindi il trader lungo e 4 trader e 31 che sono corti quindi è 5,31 se voi prendete la calcolatrice fate 4,31 diviso 5,31 vi rendete conto che oltre l'80% dei trader retail erano corti sul dollaro Canada, essere corti sul dollaro Canada 80% dei trader di FXCM significa che molto probabilmente l'80% dei trader retail di tutto il mondo è corto di dollaro Canada con degli stop sopra i massimi se non sono dei trader sprovveduti e questi stop sono ordini di acquisto perché io se mi sono messo in vendita devo riacquistare per stoppare eventualmente le perdite, oltre a questo ci sono ordini di chi come noi per esempio è andato a lavorare in rottura diretta e sono comunque ordini in stop di acquisto puro anziché di ricopertura di posizioni corte sta di fatto che sono ordini d'acquisto e questi una volta colpiti hanno portato il dollaro Canada a salire molto bene, lo vediamo proprio dal grafico, un grafico che a 4 ore restituisce tutta una zona di attenzione qui sotto tra 35, 25 e 34 e 90 per intenderci dove passa la nostra media mobile a 21 e su un grafico orario abbiamo prezzi che dopo questo tentativo di discesa sono andati addirittura a ripartire, forte congestione e potremmo assistere anche qui a dei tentativi di ripartenza, ora se arriviamo intorno a queste zone ci aggiorniamo ma potremmo valutare anche un'operatività in limit, attualmente per il momento non c'è ancora una call ufficiale da parte nostra quindi è ancora uno scenario ipotetico e non andiamo a piazzare ordini sul dollaro Canada, però l'idea è quella di aggiornarci nel pomeriggio per vedere se quest'area ha tenuto e eventualmente pensare a delle ripartenze. Il grafico che comanda comunque è un 4 ore sul dollaro Canada, dove abbiamo queste aree di congestione e di confluenze grafiche che se intervengono possono portare a ripartenze sulle quali così nel mirino iniziamo a mettere degli acquisti eventualmente in limit. Chiaro è che se il mercato riparte a rialzo direttamente io penso che una volta sopra 35,90 possano esserci dei primi tentativi di estensioni ulteriori con come detto il 36,25 che va a prendere sopravvento per quanto riguarda chiusure parziali di posizione ed eventuali estensioni verso l'alto che dobbiamo andare a studiare sul time frame mensile per evitare di stringere troppo un nostro grafico perché vedete che come vi dicevo settimana scorsa i primi punti di attenzione puliti passano intorno all'area di 37, poco sopra 37, quindi in caso di accelerazione sul 36,25 prudenza ma l'idea di mantenerne una parte per ulteriori estensioni ci può stare. Andiamo sul petrolio, visto che stiamo parlando di dollaro Canada, petrolio che è andato molto bene a rompere a ribasso, non andiamo a ripetere quello che ci siamo detti in apertura, concentriamoci sull'operatività potenziale adesso. Su un grafico a 4 ore, un po' come sul dollaro Canada, abbiamo questo tentativo di ripartenza, dal punto di vista dei livelli statici abbiamo questa zona che passa tra 38,90 e 39,60, è una zona molto ampia, quindi all'interno della quale non andremo a lavorare, anche perché per essere proprio precisi abbiamo tutta questa zona che passa qua dietro che potrebbe essere raggiunta, quindi diventa difficile andare a trovare quali possano essere le aree migliori di resistenza. Se andiamo su un grafico orario, stessa cosa, non abbiamo grandissime evidenze, se non il fatto che il mercato qui sia andato a girare verso il basso, quindi a 38,50 ci sono stati dei forti flussi di vendita che non hanno fatto ripartire il mercato oltre questa zona. Se volessimo essere un po' aggressivi, cosa che comunque non saremo adesso, potremmo andare a pensare che tra 38,50 e 38,75 si vadano a creare delle aree di vendita, ma come sugli altri cambi abbiamo visto la possibilità di essere un po' più conservativi, per cui che faccia quello che vuole il petrolio sui punti di resistenza, se arriviamo all'interno di questa zona l'idea è quella sotto 38,5 di pensare a delle ripartenze, ripartenze che possono essere spezzate su 37,5, quindi una figura a partire dal 38,5 e che per i più conservativi, e noi ci metteremo tra quelli, vede anche l'area di 38 come potenziale zona su cui andare a chiudere parzialmente delle posizioni. Se arriviamo qua sotto, mantenere parte delle posizioni per i minimi, secondo me ci sta, anche perché non escludo delle potenziali rotture ulteriori a ribasso. Diventa interessante seguire tutta l'area di 40, ci vuole un po' di pazienza, ma in caso di superamento di 40, con dei trigger che non devono, a nostro parere, passare prima di 40,30, allora sì c'è la possibilità di vedere delle ripartenze, però per il momento non andiamo a stimarle, ci aggiorniamo nel pomeriggio per vedere come si sta muovendo il petrolio e seguiamo queste potenziali evoluzioni. L'oro attualmente è abbastanza congestionato, su un time frame giornaliero abbiamo avuto un movimento simile rispetto a quello che ci ha mostrato l'euro-dollaro. Grafico a 4 ore che è abbastanza sporco, infatti vedete questi tentativi di ripartenza che fortunatamente, mi viene da dire, si sono fermati sotto i massimi precedenti, per cui un rispetto dei punti precedenti c'è stato, discesa, superamento di questi punti di massimo, per cui brutti prezzi che hanno interagito con i livelli precedenti, ma si sono mantenuti sotto i minimi precedenti, per cui siamo di fronte a una situazione abbastanza sporca dal punto di vista tecnico che rende difficile, perlomeno per me, una limitazione mia, un'interpretazione di una price action buona qua. Su un grafico orario la congestione è abbastanza stretta adesso, ma come vedete molto nervosa dal punto di vista della volatilità, questa è una tipica situazione dove io parlo a nome mio personale, non del daily effects, adesso vediamo quando arriva Davide se ha delle idee migliori delle mie sull'oro, se le ha le rendita pubbliche sul daily effects, ma a titolo personale io questa mattina starò lontano dall'oro. Voglio vedere prima degli aumenti di volatilità che mi fanno avvicinare o ai minimi o ai massimi, attualmente non vado a sforzare l'operatività, visto che ci sono delle situazioni tecniche migliori da poter seguire. Andiamo a vedere anche le borse, così il DAX ha avuto un'apertura lievemente a rialzo e si sta mantenendo, come detto, sopra i punti di minimo precedenti, il Fuzzi non lo stiamo lavorando, anche la settimana scorsa non l'abbiamo lavorato proprio per la difficoltà, qua lo si vede abbastanza bene, dovuta a tutti questi forti aumenti di volatilità che sono dei rischi di stop che non vogliamo prenderci, anche considerando il fatto che su time frame più lunghi siamo di fronte a una situazione tecnica che sicuramente non è bellissima e non è chiara come quella sul DAX, sul DAX se andate a prendere un grafico giornaliero vedete come siamo ancora in divergenza, attualmente delle rotture a ribasso possono essere ancora considerate dal punto di vista operativo, ma andiamo a rivisitare i livelli che abbiamo seguito settimana scorsa, non aspettiamo più delle rotture di 10.500 con una divergenza ancora valida, ci concentriamo sui punti di minimo, in quanto il doppio minimo è stato segnato, le nuvole di ordini possono essere posizionate, potrebbero essere posizionate qua sotto, per cui in caso di rottura a ribasso dell'area di 600 c'è la possibilità di estendere nell'ordine di 100 punti. Se andiamo a prendere un grafico a 4 ore, abbiamo avuto questa prima ripartenza con prezzi che si sono mantenuti sotto gli ultimi massimi qua, in corrispondenza di media mobile, media mobile che è andata a incrociare bene a ribasso con quella blu, quindi la media 21 è incrociata a ribasso con la media 100 e qui se il mercato parte nuovamente sotto 600 per cui operatività potenziale in breakout anche sul DAX c'è la possibilità di assistere a queste accelerazioni sulle quali, anche a farlo apposta, seguiamo la potenziale formazione di una divergenza rialzista a 4 ore, se il mercato rompe e si porta verso 10.500 l'idea di mantenere una parte di posizione potrebbe essere buona e qui gli step, le classi di volatilità iniziano a muoversi di 100 punti in 100 punti, mi sembra che possa fare senso un qualcosa del genere. Un grafico orario ci mette in guardia da potenziali ripartenze perché la formazione dell'area di minimo è stata tripla, se la andiamo a dettagliare meglio, con il mercato che ha provato a ripartire in maniera abbastanza buona qui prima di scendere nuovamente, dal punto di vista di andamento che cosa iniziamo a avere? Iniziamo ad avere dopo i primi tentativi di ripartenza del mercato che ha trovato un nuovo minimo con stocastico che continuava a salire e poi è andato a ripartire, iniziamo ad avere delle corrispondenze se evitiamo i ragionamenti su questi due punti, una buona sincronia tra prezzi ed oscillatore, perché qui che cosa abbiamo? Massimi di prezzo con massimi di oscillatore, minimi di prezzo con i minimi dell'oscillatore e qui potremmo iniziare ad entrare in una fase laterale di questo tipo che è esattamente quella su cui abbiamo ragionato prima quando vi ho detto che c'era buona sincronia tra prezzi ed oscillatore stocastico ma mancava la seconda condizione, ossia quella di mantenersi all'interno di due livelli statici come in questo caso o di due livelli dinamici se ci fossimo trovati di fronte a una congestione però inclinata o verso l'alto o verso il basso. E ancora presto da dire perché non abbiamo le prime conferme qua visto il discorso che abbiamo fatto sui due minimi di prezzo e sullo stocastico iniziamo ad avere un qualcosa di interessante qui che però non è definitivo quindi se il mercato rompe qua a rialzo l'area di 10.800 e lo stocastico continua a rimanere impostato verso l'alto seguiremo eventuali evoluzioni verso i massimi seguendo uno stocastico così che se ci mostra prezzi qui con stocastico in ipercomprato può far determinare la fine, valutare la fine del movimento e un'eventuale ripartenza verso il basso con eventuali stop subito sopra. Se il mercato manca questa rottura di 800 allora si va a sposare con uno scenario potenziale a quattro ore di eventuale rottura verso il basso verso 500 con 600 area da seguire e anche qui attenzione perché se non superiamo l'800 e iniziamo a rompere verso il basso lo facciamo di un altro colore però l'idea comunque di andare a seguire una potenziale divergenza rialzista anche su un time frame orario non dovrebbe abbandonare il nostro cervello quindi tanti scenari prospettici per la giornata di oggi che risultano comunque interessanti da poter seguire. va bene direi che ci siamo ok dai io come sempre vi ringrazio per l'attenzione se volete adesso come ogni giorno andiamo a vedere le vostre domande le vostre osservazioni per chi ci salutasse adesso vi auguro una buona giornata un buon trading vi do appuntamento alle 15 15 sarà aperta la stanza a tutti anche questo pomeriggio da matteo paganini è tutto buon trading